Buonasera, non sia la lontra, io siamo molto felici di avere con noi Roberta Mazza, che però dovrà qualificarsi. Cos'è Roberta Mazza? Sono molte cose, una donna. Non l'abbiamo fatto venire quanto donna, ma quanto papirologa. Sono una papirologa, sono una lecturer in greco-roman material culture alla Università di Manchester e mi occupo appunto della nostra collezione Rylands, che è una collezione molto importante di papiri. Benissimo, ma Manchester City o Manchester United? City, per sempre. Va bene, siamo d'accordo. Allora, oltre a essere papirologa, Roberta Mazza fa parte di quella schiera di italiani expat, qualcuno li chiama anche cervelli in fuga, ma insomma su cui, che sono infatti una sorta di fritto misto dove c'è un po' di tutto, ci sono i precari, ci sono invece i titolari, Roberta è uno di questi, anche perché diciamo laddove in Italia le vie della ricerca seguono delle piste a volte un po' distorte, in Inghilterra danno invece molto spazio a quelli che sanno fare i progetti e sanno fare arrivare soldi alle università e quindi questo è una cosa anche importante da mettere in evidenza. Nel caso della papirologia, diciamo subito, insomma questa volta in questa puntata di Antichisti da Sara Lei abbiamo messo una locandina, una cosa un po' strana, insomma si vede un papiro e qualcuno potrebbe anche dire, ma che è questa azuzzeria? Ci lo spieghi bene, di cosa si tratta? In questo caso si è rivelata una azuzzeria che però ci ha diciamo così fatto divertire per parecchi anni perché è questo famoso diciamo così frammento di un cosiddetto Vangelo della moglie di Gesù che poi si è rivelato essere un falso dopo parecchi anni insomma di inseguimento e finalmente un libro scritto da un giornalista americano Ariel Sabare in cui si ricostruisce tutta la storia di come questo proprietario del papiro che poi anche non si dice apertamente ma insomma è quello che probabilmente ha fatto il falso, ha tenuto in scacco una serie di professori importanti, si è abbastanza giocato di una serie di personaggi di rilievo e d'altra parte invece ci sono stati una serie di giovani studiosi soprattutto cooptologi che fin dall'inizio si erano schierati per appunto un falso quindi insomma è un aspetto interessante della disciplina in questo. quindi insomma noi che stavamo aspettando con impazienza il nuovo papiro quello della suocera di Gesù siamo rimasti tutti un po' così molto delusi che cosa ma in effetti il vero problema dei papiri è che da una parte qualcuno si chiede ma che cosa hanno di bello di interessante io mi ricordo anni fa andai al museo del Cairo e tutti andavano a vedere naturalmente i monumenti tutankaman e poi c'era quest'enorme stanzone pieno di papiri anche molto belli anche molto interessanti di varie epoche e non c'era nessuno e non è soltanto perché fosse così una sala all'antica allora perché invece questo interesse perché la gente compra i papiri vende i papiri falsifica i papiri e i web e non il non il dark web nel deep web il web normale è pieno di gente che svende questi papiri ma raccontaci un po' questa storia allora diciamo che negli ultimi dieci anni c'è stato un grande movimento così di papiri venduti rivenduti e comprati perché è apparso sul mercato questo gigante che è il museo della bibbia di washington dc che è stato aperto da questo fondatore grande finanziatore il padrone di hobby lobby che sarebbe come un po' ma non lo so neanche che cose in italia questi negozi dove vai a fare compri le cose per farti le cose da solo non so per la casa che è anche questo personaggio pubblico la famiglia si è schierata contro la legge di obamacare insomma è stato anche insomma una famiglia che anche politicamente ha avuto un grosso ruolo negli stati uniti con questi evangelici americani e per i quali appunto la bibbia è molto importante ma non le predicatori sì anche i tele predicatori che abbiamo visto recentemente per cui si era appunto preposto questa idea di fondare un museo della bibbia che raccogliesse ovviamente tutti i possibili oggetti immaginabili con qualche connessione appunto alla bibbia e ovviamente i papiri la fanno fanno una parte da gigante perché appunto se in teoria volessimo cercare il più antico frammento appunto del nuovo testamento nonché anche della 70 per esempio è ovvio che può venire fuori solo da o qualche collezione con testi inediti o addirittura dalle sabbie appunto egiziane dove sappiamo comunque si scava di frodo e vengono esportati attraverso vie interessanti diciamo che la turchia la fa da grande poi eh in paesi appunto eh occidentali ma anche adesso questi nuovi mercati per esempio che vediamo emergere nei paesi arabi e così via quindi diciamo che è un interesse legato per i collezionisti solitamente a cose molto specifiche per esempio appunto ai papiri ehm eh del delle origini cristiane quindi questi questo cercavano infatti è in realtà li ho tenuti sempre così in scacco perché fino adesso è il Rylans che ha il frammento a lato pratico quindi un papiro della Bibbia è molto quotato un papiro diciamo con magari qualche frammento qualche variante di un autore greco è molto apprezzato eh un papiro che parla non so delle vendite di di appezzamenti di qualche nomos invece viene considerata come una una cosa che che potete studiare voi papirologi ma non è interessante oppure c'è un mercato anche in quella direzione c'è un mercato in realtà anche in quella direzione ho poi scoperto grazie appunto a questa diciamo porta d'entrata che è stata questa famiglia di grandi acquisitori che fra l'altro hanno fatto mostre al Vaticano eh in passato quindi avete avuto anche voi contezza eh appunto dei papiri ma io sono in Francia in un paese laico però eh sì sì il Vaticano ha fatto appunto esposto e però sì ci sono anche diciamo eh collezionisti interessati diciamo alla storia della scrittura per esempio per cui magari avere un pezzo di un certo tipo per fare tutta la gamma della collezione può risultare interessante poi ovviamente bisogna fare una grossa distinzione cioè c'è un mercato lecito eh perché eh se appunto la provenienza la catena insomma è lecita si può comprare e c'è un mercato illecito che è quello di cui sto parlando poi c'è tutta un'area grigia perché ovviamente eh non solo i papiri possono venire falsificati ma la loro provenienza pure quindi eh che importante i casi d'aste hanno prodotto in realtà documentazione eh che eh era falsa quindi ecco molto interessante ovviamente quando si parla di papiri si parla di Egitto però c'è anche il marmorto quindi eh e di questi ultimi tempi la notizia eh di pretesi eh manoscritti nuovi manoscritti del marmorto ritrovati che cosa che cosa si può dire? Eh si può dire che appunto è un mondo difficile nel senso che da una parte appunto c'è eh per esempio anche questa grande ehm diciamo così eh polemica sugli ultimi frammenti quelli diciamo quelli del marmorto eh comparsi sul mercato dopo il duemila che in gran parte anche secondo appunto recenti analisi scientifiche sembra siano appunto falsi poi c'è tutta il problema appunto di eh comunque Israele dove alcune cose eh sono permesse eh mentre in altri paesi no il mercato è molto di antichità è molto più libero e in più è di nuovo questa grande attenzione cioè questo grande desiderio di essere poi anche i proprietari diciamo così della storia delle scritture no eh che sono alla base un po' perché stai uscendo dal riquadro ecco sì sto cercando di sfuggirti eh no 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 niente eh ecco allora va bene eh però all'atto pratico la gente che poi invece si interessa ad aspetti un po' più eh avventurosi della cosa e come si trovano i papiri? Beh un tempo vabbè c'erano proprio i mercanti eh di papiri eh adesso ad esempio in Egitto come si come vengono ritrovati se scavando un papiro che cosa si fa? Si si raspa nell'immondizia o ci sono dei criteri archeologici eh eh leggermente più precisi rispetto a quelli di un tempo? Beh adesso ovviamente eh diciamo che eh chi va a scavare in in Egitto scava scientificamente non solo per trovare i papiri come per esempio facevano per Grenfell e Ant e altre spedizioni in cui veramente quello che importava era raggiungere il papiro tutto il resto diciamo così veniva documentato anche in modo eh più approssimativo adesso chi eh scava scava per scavare appunto un sito quindi c'è molta attenzione al ritro a dove come vengono ritrovati ed è un mondo molto diverso da quello del passato infatti in realtà molti eh papiri che noi studiamo adesso ci arrivano diciamo sui tavoli delle biblioteche privi del contesto archeologico e questo è grave perché in realtà eh noi non riusciamo a capire fino in fondo un oggetto scritto che è pur sempre un oggetto senza sapere eh dove è stato trovato come è stato trovato perfino in quegli scavi appunto di Grenfell e Ant che in fondo erano queste discariche antiche sarebbe stato molto più interessante sapere molto di più e di quello che comunque ci hanno lasciato nel caso poi appunto di pezzi comprati sul mercato eh ormai è stato anche proprio dimostrato che molte volte quelle poche notizie che un mercante dava erano poi storie inventate per mh con piacere perfino questi compratori occidentali no con queste storie delle grotte delle tombe che insomma alla prova dei fatti lasciano molto il tempo che trovano eh bisognerebbe anche spiegare che eh comunque eh il mondo della peperologia non è come si può immaginare guardando i film di Indiana Jones perché insomma i papiri sono scritti su papiro si scrive in tante lingue per cui eh c'è ci sono le varie lingue egiziane ci sono i latini il greco e anche un po' il latino il copto naturalmente ma anche l'arabo ma tutto insomma fino a fino a quando si è continuato a scrivere su papiro? Fino a che secolo? Eh fino all'età medievale adesso addirittura ci sono certi documenti della della chiesa nostra cioè dai papiri e ravennati che insomma sono eh molto molto tardi. Quindi si sono di sesto secolo ma in Egitto cioè fino a fino a che periodo cioè sotto i mammelucchi si scriveva su papiro oppure si utilizzavano altri supporti? No poi è stata introdotta la carta perché ecco sappiamo la carta nostra diciamo così quella che usiamo adesso è stata fra virgolette inventata diciamo così eh dai cinesi che poi e poi gli arabi l'hanno trasformato eh la produzione e noi abbiamo imparato dagli arabi insomma questa nuova forma di carta però c'è stato un periodo diciamo così di eh convivenza tra i mali tra questi materiali scrittori ma pare eh che appunto nel corso del eh tardo antico ci siano stati anche proprio dei cambiamenti climatici che abbiano compromesso eh la produzione di quel specifico tipico tipo di eh pianta di papiro grazie alla quale si produceva appunto questo. No no ma questo è interessante anche per dimostrare che ogni tanto qualche cosa di istruttivo lo presentiamo anche noi e non soltanto le solite facezie a cui siete abituati ma adesso torniamo a un discorso più più serio e eh quanto si guadagna a falsificare un papiro? Eh è una bella domanda si può guadagnare dalla grandezza del papiro perché immagino che un papiro francobollo sia meno interessante. Eh chi lo sa appunto eh non sappiamo quanto avrebbe potuto guadagnare per esempio questo eh proprietario del frammento della suocera di Gesù che tu menzionavi prima però se gli fosse andata dritta avrebbe sarebbe riuscito probabilmente a guadagnare un bel po' di soldi nel senso che ed è piccolo perché è un piccolissimo frammento. Quindi più facile da trasportare. Ma poi ma in realtà sì a parte questo cioè la falsificare un testo lungo a mio a mio modesto avviso è veramente difficile se non impossibile su papiro perché hai bisogno di un supporto comunque di una grande supporto eh genuino cioè antico perché adesso le se no alle analisi scientifiche non si potrebbe appunto superare la prova e eh e mentre sì ci sono dei papiri con un verso bianco eh non sono mai troppo estesi quindi sarebbe molto difficile. Il prezzo lo fa il mercato e il mercato è bizzarro come dicevo prima cioè a un certo punto ti può comparire un grandissimo eh collezionista con i miliardi alle spalle come signor Green che ha comprato eh pezzi con dei prezzi eh giganteschi appunto e però poi ci sono anche quelli che vendono su internet piccoli frammenti senza significato oppure appunto falsi chiaramente falsi all'occhio dello specialista che però hanno un mercato e vendono anche per centinaia di dollari eh quindi è strano è un mondo strano anche quello di chi compra eh questi frammenti a volte a mi raggiungo mi contattano per email chiedendomi ovviamente pareri se un papiro che è su eh ebay sia falso o vero io solitamente non do appunto su ebay addirittura sì sì su ebay beh è tramite in realtà ebay che io sono venuta in contatto con una rete appunto di ehm ehm dealers di antico gente che spacciava papiri ehm in in maniera anche interessante e cospicua anche ai green eh e che appunto è una rete che eh ha una base senz'altro in Egitto e che però si eh fa forza ha una base poi in Turchia dove molte cose arrivano al giorno d'oggi e da lì poi vengono spedite eh appunto sicuramente in Europa e negli Stati Uniti avevano un un appartamento in centro a Londra. Quelli della generazione boomer si ricorderanno dei famosi fumetti di Blake e Mortimer con il colonnello Ulrich che sicuramente doveva essere implicato in questo tipo di traffici ma eh a questo proposito ecco ci stanno ancora tante tante cose a dire però bisogna ricordare una cosa importante che eh Roberta Mazza eh oltretutto gestisce un sito internet insomma una sorta di blog ma un blog eh di tipo molto serio in inglese dove racconta tutte queste storie quindi potrà essere potrà essere utile si può forse indicare poi nella 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 chat questo eh indirizzo dove chi non lo conosce può andare a guardare un po' queste avventure allora ci chiedono Francesca esiste un ente che censisce o cerca di censire il mercato che cerca di controllare esiste? Allora eh il mercato dei papi dunque diciamo che non esiste nel senso che esistono magari dei eh database per esempio quello dei carabinieri nostro eh oppure dell'Interpol ma ci sono carabinieri papirologi perché ci sono carabinieri storici dell'arte antica sì appunto parlo di questo settore diciamo che i nostri si occupano delle nostre cose ovviamente ehm il ministero egiziano adesso è molto diciamo così ehm aggressivo ehm quando eh si fanno segnalazioni di questo genere sono si sono fatti restituire un bel po' di papiri praticamente tutti i papiri che si era comprato a mister green alcuni di noi hanno dei database personali ovviamente come eh si sa se non hai alle spalle un grosso finanziamento è molto difficile fare un lavoro di questo genere ehm il British Museum adesso ha un progetto che è più appunto sulla sugli oggetti materiali egiziani di altro tipo io collaboro con loro anche un po' in modo informale eh però sì sarebbe il caso di censire controllare il mercato è un lavoraccio perché in realtà eh quando vai a scavare nei cataloghi d'asta anche grossi e poi in questo mondo strano di per esempio ehm wiki wikipedia ha un mercato anche quello cioè ebay è è ormai quasi superato e poi appunto una volta che agganci questi ehm venditori su per esempio ebay e altre piattaforme come anche facebook tutta la conversazione passa in realtà su whatsapp o altre chat e a e lì sai passano materiali che magari appunto il pubblico non vede cioè è un lavoro quasi infinito ho capito beh e quindi questo se c'è qualche diciamo vertice dell'arma dei carabinieri che sta ascoltando potremmo anche consigliarli eh di fare eventualmente dei concorsi per reclutare giovani papirologi perché ce ne sono tanti non non e non tutti hanno avuto la la diciamo la fortuna di trovare un posto fisso quindi potrebbe essere effettivamente tantissimo entrare nell'arma dei carabinieri per aiutare no no ma si potrebbe fare anche una fiction insomma te ci vedo ecco no ecco ecco allora insomma il tempo sta passando io farei un'ultima domanda se dovessi indicare qual è il papiro più bello preferiresti non so un libro dei morti egiziano oppure la costituzio antoniniana o che che cos'altro che cosa che cosa metteresti eh fra i primi dieci eh papiri eh che valga la pena almeno conoscere parlarne magari in società ma è molto difficile fare una classifica diciamo che io sono molto attaccata ovviamente alla collezione che conosco più da vicino che la nostra la Rylans dove c'è in realtà questa questo gran finale del Vangelo eh di eh Maria che sarebbe poi Maria eh Maddalena in cui lei è un appunto un Vangelo gnostico in cui lei presenta diciamo così questi insegnamenti nascosti che Gesù avrebbe eh dato soltanto a lei e nella nostra pagina finale è fantastica perché in realtà c'è la reazione piccata di questi discepoli come Pietro ed altri che non possono credere al fatto che Gesù abbia dato questi insegnamenti eh strepitosi a Maria e non a loro che sono i maschi ma se ne parla nel codice da vincere se ne parla è la cosa fantastica è che c'è veramente eh questo Dan Brown che non è affatto questo stupido che alle volte viene usa veramente il nostro frammento perché ha una la una traduzione a un certo punto ci sono questi il professore che parla appunto di sta cosa e c'è la traduzione del nostro diciamo così ma chiedono quale quale sia il ruolo di Scotland Yard in queste indagini allora in queste indagini io sì mi sono diciamo che loro hanno un'unità eh che è questa art and antiquities squad che è fatta di tre persone tre mentre noi abbiamo uno squadrone di carabinieri ehm che fanno quello che possono ma eh diciamo una lotta impari con loro ho collaborato quando appunto eh uno di questi matti turchi mi ha anche minacciato di attacco con l'acido e mh e diciamo che però è la storia nostra è di un paese che è stato eh diciamo così come un po' l'Egitto no? Noi siamo al centro di furti quindi noi abbiamo comunque avuto un tipo di legislazione di intervento molto forte anche molto cioè devo dire anche molto apprezzato eh all'esterno mentre Scotland Yard è un po' l'opposto cioè loro sono quelli che hanno importato no? Hanno fatto mambazza e eh devo dire che il mercato dell'arte e il mercato antiquario è ancora uno di quei settori che tira alla grande per cui eh sai. Ecco quindi in definitiva se volete regalare un papiro facendo qualche cosa di strano regalatelo falso perché comunque insomma anche il falso il suo perché tutto sommato lo possiamo considerare uno dei molteplici aspetti della fortuna dell'antico. Sì sono d'accordo. Ecco e su questa nota facciamo l'ultima domanda a cui rispondo però molto rapidamente perché stiamo sforando il tempo di eh eh di di reazione eh eh da parte del del pubblico e tutti consideri un antichista? Ma sì io mi considero un antichista come chiunque di noi specialisti insomma che eh si occupano di cose che hanno a che fare con l'antichità in modo anche molto diverso insomma così gli uni dagli altri quindi sì faccio parte della categoria. Però degli antichisti diciamo giusti quelli che anche non esitano a dare in prima linea per combattere determinati eh illeciti e ricevere quindi anche delle minacce per cui insomma a tutti coloro che pensano che l'antichistica sia una disciplina una comfort zone dove nessuno può farti del male eh beh non crederci sì ci sono anche quelli però ci sono anche eh eh del degli esponenti come Roberta Mazza che dopo avere sfidato eh l'antichistica italiana da cervello in fuga sta sfidando l'antichistica internazionale e su questo ci possiamo salutare eh non si era lontra eh il sottoscritto la casa editrice e la terza non possono anche congratularsi con questo eh aspetto eh vedo che ci ringraziano anche di cuore quindi la missione è decisamente compiuta. Grazie e buonasera. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.